In diretta dal mondo della scuola, il tuo canale, la maestra Kralatorlis, scuola infanzia di Ricola, propone un bellissimo lavoretto, o meglio un esercizio per imparare ad allacciare le scarpe. Lo consiglio a tutti dai bambini per cofino ai ragazzi più grandi. Ricola è un comune italiano di 1234 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Fa parte del club dei Burghi Autentici d'Italia. Sorge a 810 metri sul livello del mare, su un'altura al confine con il Lazio. Il borgo di Ricola si sviluppa tra Abruzzo e Lazio, su un'altura tra la valle Sublacense e la piana del Cavaliere, dominato dall'alto da un antico maniero eretto nel IX secolo. L'antico centro abitato, con le sue strette e tortuose viuzze, si sviluppa troccato intorno al castello, da sempre punto di riferimento per gli abitanti e cuore della vita cittadina. Edifici in pietra, a vista, fanno da sfondo alle piazzette, dove antichi archi di calcare bianco fanno da cornice alle abitazioni. Un'architettura semplice e lineare che regala suggestivi scorci da cartolina. Buongiorno bambini, oggi intendiamo farvi divertire e insegnarvi qualcosa che vi sarà molto utile per molto molto tempo. Allora, abbiamo bisogno di un laccio per le scarpe, che sicuramente tutti avremo in casa, e poi di un bel paio di scarpe, possibilmente pulite. Anche delle scarpine di quando eravate più piccoli che non vi vanno più. L'importante è che abbiano i lacci. Che cosa dobbiamo fare? Oggi impareremo per prima cosa a fare dei nodini. Allora, prepariamo l'occorrente. Iniziamo dal nostro laccio di scarpa, che può essere di qualsiasi dimensione. Può essere più lungo o più corto. Non è importante. L'importante è che voi impariate a fare questo. Allora, mettete il vostro laccio sul tavolino, è una cosa piuttosto semplice, e incrociate così i vostri lacci, il vostro laccio. Ok? Dopo averlo incrociato, lo passate dentro. Sollevate la parte che è poggiata, prendete quella che avete incrociato, e come per magia, viene fuori un primo nodo. Dobbiamo ripetere questa operazione per più e più volte. E allora, continuiamo insieme. Incrociamo i lacci, mandiamo dentro un laccio, e poi facciamo così. E ecco a voi un altro nodo. E continuiamo. Incrociamo i lacci, mettiamo all'interno un pezzo del laccio, e poi, sollevando la parte esterna del laccio, infiliamo sotto e di nuovo un bel nodo. Vedete? Sta venendo un nodo gigantesco, ma non è un problema, perché poi possiamo anche divertirci a snodarli. L'importante è che non lo tiriamo eccessivamente, altrimenti il nodo risulta essere troppo stretto, e sarà difficoltoso snodarlo. E allora, bambini? Continuiamo. Questa parte e questa parte si vogliono bene, e si abbracciano questi due lacci. Si abbracciano e possiamo fare anche così. Solleviamo un po' questo, e con l'altra manina, mano destra e mano sinistra, stringono in un grande abbraccio questi due lacci che si sono incontrati ed incrociati. E ancora procediamo. Si incrociano i due lacci. Si mette all'interno una parte del laccio, e così via. E di nuovo ancora. Eeeh! Dobbiamo realizzare un nodo grandissimo, perché dobbiamo proprio imparare questa cosa semplicissima. La prima cosa da imparare, per poter poi sapere allacciare perfettamente le vostre scarpine, ed essere così indipendenti. Perché noi dobbiamo diventare bambini in grado di fare da soli le cose necessarie, come lavarsi, vestirsi, pettinarsi, mettere un po' in ordine i nostri giochi, una volta che abbiamo giocato. E continuiamo. Vedete, bimbi, io chiacchiero, ma nel frattempo sto facendo tanti nodi. Guardate che nodo lunghissimo che viene. E continuiamo. Abbracciamo. Incrociamo. Mettiamo giù. E poi... stringiamo. E di nuovo. Incrociamo. Mandiamo dentro. E poi... stringiamo. Ed incrociamo. Mandiamo dentro. Alziamo un pochettino. e poi tiriamo. Possiamo anche inventare una storiella. E allora chiamiamo... Giovanna e Michele. Giovanna e Michele si vogliono bene. E allora... si incontrano, si incontrano, si incontrano, si incontrano e si avvicinano. Michele, che è meno timido di Giovanna, l'abbraccia forte forte. Giovanna, che ha piacere di ricevere l'abbraccio, stringe Michele e... dal loro abbraccio nasce un nodo. E ancora... Giovanna e Michele si incontrano. Si vogliono bene e si abbracciano. Michele è meno timido di Giovanna. E allora Michele... stringe forte forte Giovanna. Ed ecco qui... che viene fuori un bellissimo nodo. E continuiamo. Michele e Giovanna si incontrano. Si abbracciano stretti stretti. Giovanna è un po' più timida di Michele. E allora Michele la stringe forte e viene un bel nodino, un bel abbraccio. Ok? E continuate così. Fin quando poi avete talmente imparato a fare tanti tanti nodi che vi potete divertire a snodare. quindi passate un po' di tempo a snodare i vostri lacci perché è importante che imparate ad allacciare le scatte ma è importante anche riuscire a togliere poi tutti questi antipatici nodini. Vedete? Sono dei nodini che abbiamo realizzato. non avendo stretto troppo sono anche facili da snodare. Vedete? L'incrocio com'è? L'incrocio e tornano come prima. E voilà! Continuiamo. E continuiamo ancora. E continuiamo ancora. E ancora dai. E snodiamo, 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 snodiamo. Ecco qui. E poi le vostre manine sono più simpatiche e carine e sono più agili delle mie perché sono piccine. Quindi secondo me voi farete senz'altro meglio e più in fretta della maestra. Fatto questo abbiamo imparato a fare il nodo. E allora prendiamo una bellissima scarpa bella, brutta, vecchia, nuova, non fa nulla purché sia pulita perché la dovete mettere su un piano che può essere un tavolino sotto al quale mettete una tovaglietta che poi potrete lavare perché non è troppo igienico mettere, come sapete, le scarpe sopra al tavolo perché le scarpe toccano il terreno, l'asfalto, il pavimento andiamo a giocare fuori quindi non è igienico tenerle su un piano dove poi magari coloriamo, disegniamo, mangiamo. E continuiamo e cominciamo. Cominciamo così. Abbiamo imparato che Giovanna e Michele si incontrano e si abbracciano. Si incontrano e si abbracciano e da questo abbraccio nasce un nodo. Ok. Fatto questo nodino dobbiamo fare una farfallina e allora prendiamo il dito indice della mano sinistra prendiamo un pezzo di laccio e con la mano destra andiamo a pizzicare questa parte del laccio insieme all'altra. Abbiamo fatto così una mezza specie di orecchio di coniglio o farfallina. successivamente prendiamo l'altro laccio e facciamo un giretto intorno all'orecchio del coniglio e poi guardate che succede. Questa è la parte più difficile e vi dovete succitare di più. Una volta che abbiamo fatto un giro dobbiamo incastrarlo nella parte che era rimasta libera e allora con la mano destra prendete la parte che avete incrociato sotto e con la mano sinistra tenete ancora la parte che avevamo realizzato prima e così si stringe. E ripetiamo, ripetiamo da capo e così facciamo un nodo. Come abbiamo fatto prima, si incontrano Michele e Giovanna, si stringono in un grande abbraccio e arriva un nodino. Successivamente creiamo un orecchio di coniglio o una farfallina e con quest'altra manica, quella sinistra, potete infilarlo all'interno e vi aiutate poi con la mano destra a prendere la parte del laccio che era stata incastrata all'interno e con la parte sinistra tirate le orecchie ed ecco qui il vostro laccio. Allora bambini, che dirvi? Buon divertimento! Se potete realizzare dei piccoli video anche dove fate soltanto il nodo le maestre saranno molto molto contente di vederlo. È un modo per passare un po' il tempo in compagnia di mamma, papà, di un adulto, di un fratello maggiore o di una sorellina maggiore che vi possono aiutare in questa cosa e sicuramente è una cosa che vi tornerà utile per tanto tanto tempo. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video! D'accordo? Iscriviti al canale e buon divertimento da un riccio. Questa è la mia vera natura quando mi trasformo.